La sede di RTS è un immobile unico e di pregio, attualmente in vendita. Questo edificio, situato nei pressi di Conegliano, è disposto su due livelli, uno per l'accoglienza e l'altro per gli uffici dell'azienda. Il senso dell'ospitalità è percepito fin dall'entrata, con una reception luminosa e brillante, dotata di mobili fatti su misura. Il pavimento a terrazzo alla Veneziana ti conduce a tre grandi sale per meeting, adatte a qualsiasi incontro lavorativo. L'ultima sala è una sala conferenza di ultima generazione, creata per svolgere eventi di formazione o presentazione, con un impianto audiovisivo di ottima qualità. La vera perla del primo piano è l'enorme showroom. Questo ampio spazio di 260 metri quadri, corredato di luci che mettono in risalto i prodotti, è uno spazio moderno e lussuoso per mettere in mostra i vostri prodotti, può dare la possibilità ai vostri clienti di toccarli e provarli. Da non dimenticare, è una grande tavola da banchetto, pronta per offrire un pranzo ai clienti o ospitare una riunione con l'azienda. Una rampa di rara manifattura vi conduce al secondo piano, nel caso in cui non si voglia prendere le scale. Allo stesso tempo, è l'ideale come accesso per i disabili. Il secondo piano è stato concepito apposta per l'operatività dell'azienda. Il grande open space di 270 metri quadri assicura la massima collaborazione e interazione tra gli impiegati, con la possibilità di personalizzarlo. Due uffici direzionali danno la possibilità di avere privacy e tranquillità per i più importanti ruoli di direzione. Gli uffici esecutivi sono un vero capolavoro del lusso. Arredati con mobili creati su misura da frau, si distinguono per originalità e valore. La sala riunioni è arredata con mobili della stessa marca, con tavolo e sedie disegnate ad hoc, e un'illuminazione complementare che incrementa l'importanza di questo luogo creato per discutere le decisioni più importanti. Il piccolo magazzino è disegnato per un'importante attività direzionale e commerciale. Tutti i 1700 metri quadri sono abbinati ad un sistema di riscaldamento a raggi infrarossi che riscalda gli spazi lavorativi con un grande risparmio energetico. La parte posteriore dello stabile è adibita allo scarico e carico della merce per il magazzino, con due uscite, una per gli autotreni con una zona di carico e piattaforma, e l'altra per i furgoni più piccoli, dove si può entrare direttamente in magazzino. Gli uffici direttivi della zona shipping si distinguono per la loro luminosità e in particolare per essere a forma di mezzaluna, con una vista a 180 gradi del panorama. L'architettura dell'edificio, curata in ogni dettaglio, non è l'unico aspetto che è stato progettato con attenzione. L'edificio è dotato di un sistema di impianto di riscaldamento all'avanguardia, composto da una combinazione di impianto geotermico e fotovoltaico sul tetto. Una centrale termica all'interno controlla l'intero sistema, rendendo l'immobile autonomo all'80% dal punto di vista energetico. Inoltre, la resa elettrica dell'impianto fotovoltaico viene venduta al GSE, un ulteriore guadagno che porta le spese energetiche quasi a zero. L'ufficio è anche corredato da un aspiratore centralizzato di marca finlandese, integrato nelle pareti dell'edificio. Grazie a questo sistema è possibile pulire l'intero edificio senza elettrodomestici e senza spargere polvere nell'ambiente intorno. Uno degli aspetti più vantaggiosi dell'edificio è la sua location. Situato a soli 10 minuti dal centro di Conegliano, in un quartiere residenziale, è perfetto per tutte le attività della città, ma è dislocato in una zona tranquilla. La collocazione dell'edificio in prossimità dell'ingresso dell'autostrada A27 dà un'ottima visibilità all'azienda che lo occupa. Per tutti questi motivi, l'edificio di RTS è un'ottima scelta per un'azienda che vuole farsi conoscere ed imporre la sua professionalità sul territorio locale e internazionale. RTS è un'ottima scelta per un'azienda